Grazie innanzitutto per essere qui, chiamati all'ultimo istante, bentornati al lavoro. Noi abbiamo avuto un incontro con il Presidente del Consiglio. La premessa che abbiamo fatto è molto semplice. L'Italia sta ripartendo perché qualcuno, e cioè noi, alcuni mesi fa, esattamente nell'autunno del 2013, si è assunta la responsabilità di tenere la rotta dritta verso la ripresa economica salvando il Paese, il Governo e la legislatura. Se non ci fosse stato questo nostro atto di responsabilità, oggi l'Italia non sarebbe a questo punto. Rivendichiamo quel gesto come il gesto di un manipolo di donne e di uomini coraggiosi che oggi possono dire con grande orgoglio di avere fatto esattamente quello che serviva all'Italia e di raccogliere adesso i primi frutti di quella fatica e di quel lavoro.